Cercavano una vita nuova in una terra ancora vergine. Per questo, seguirono la strada che portava a Ovest. Per il ciclo c'era una volta al Western. Henry Fonda Gregory Peck Dove sono i soldi? Soldi? James Stewart Tu fai da caposquadra ora, finché non trovo di meglio. Sì, sì. Mettili sotto! John Wayne Un soldato dalle dimissioni, solo se è convinto di avere sbagliato. Vincitore di tre premi Oscar. La conquista del West. Martedì, alle 21, con Iris.